Cari amici della Eli, buongiorno a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come state? Spero che questa settimana sia iniziata in maniera positiva, a parte il tempo che almeno qui nel Lecchese, aiuto, ha piovuto tantissimo, ha fatto un freddo pazzesco sulle montagne, ha nevicato più ora che quest'inverno, siamo ancora in inverno ma comunque fino a dicembre faceva freddo ma non aveva nevicato così tanto e che dire, fa freddo, fa freddo ragazzi, oggi è il primo giorno, è il giorno di tregua e quindi c'è il sole ma effettivamente ha fatto molto molto freddo e quindi la stufa è andata sprombattuta e abbiamo finito la legna e il Mauri non l'ha ordinata. Presumo che ci sia ancora bisogno di un piccolo carico per arrivare all'inizio della primavera anche perché io sono molto freddolosa, se sto facendo e rifacendo queste cose no perché poi mi arrivano le scalmane della sciuragiana ma effettivamente quando la sera sono in poltrona e non mi addormento cosa ormai veramente molto rara perché mi cara la palpebra prestissimo la stufetta accesa che riscalda devo dire che fa ancora molto molto piacere e anche quando si spengono i riscaldamenti generalmente capita che c'è qualche giornata un po' umida, un po' frescolina e quindi la stufa è davvero una compagnia molto piacevole per noi. Ma veniamo al video di oggi Ti ho provato, ti ho amato, sono andata a vedere e se lo sguardo non mi ha ingannato sul mio canale sono quasi sette mesi che non faccio questo video, questa tipologia di video e devo dire che è una tipologia di video che vi è sempre piaciuta perché vi faccio un po' vedere le cose che sto usando quelle terminate le vedete nei terminati quelle che invece sono in uso e che mi sono piaciute ve le faccio vedere in questo video quindi penso di non avervi mai fatto vedere questi prodotti perché li ho iniziati da 2-3 mesi e quindi qualcuno anche un po' di meno e quindi niente, partiamo con il video sarà un video lungo perché ho 2, 4, 6, 8, 10 prodotti che sono per me dei top tutti i prodotti tranne uno low cost ma alcuni low cost, low cost, low cost, low cost quindi a basso prezzo ma veramente a basso prezzo e quindi me la sento di consigliarveli ovviamente se vi piace la tipologia se siete in cerca di un prodotto che ha queste caratteristiche se avete la pelle come la mia sapete che comunque quello che io vi racconto sono le mie esperienze personali non è detto che poi magari qualcuno di voi ricompri questo prodotto e si è innamorato come me ecco, è una bella chiacchierata quindi una bella tazza di tè oppure se state facendo le faccende di casa in bagno, pulite il bagno passate l'aspirapolvere no, perché sennò non mi sentite o state sistemando la cucina mettete lì la Eli con il suo bel faccione che vi racconta quello che gli sta piacendo in questo momento mi sono preparata guardate qua, preparatissima ieri sera ho fatto tutto una scrittura, una copiatura di delle caratteristiche non è che ve le leggo tutte ma è per rammentarmi diciamo le caratteristiche dei prodotti e niente, iniziamo primo prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questa acqua micellare che va bene sia per la faccia sia per gli occhi sia per le labbra le labbra ora che arrivo a sera non c'ho più su neanche il rossetto quindi adesso me lo sono rinfrescato ma perché dovevo fare il video è questa acqua micellare della Delia che io, Delia, penso si dica così che io ho acquistato su Notino perché come vi ho già detto le acque micellare mi piace cambiarle provare prodotti nuovi e quindi le avevo finite nel periodo in cui mia mamma era in ospedale le avevo finite a proposito di mia mamma aperta parentesi visita dal cardiologo tutto molto 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 bene che ha sorpreso anche lei anzi è rimasta quasi un po' male perché lei ha alcuni disturbi che non sono causati fortunatamente dal cuore perché il cuore si sta riprendendo la cura le pastiglie che sta prendendo stanno facendo il loro lavoro e lo stanno facendo bene quindi il cardiologo è stato veramente molto molto contento probabilmente i disturbi che ha sono legati alle pastiglie che sono delle bombazze che prende per le crisi epilettiche che ha avuto dopo l'ictus e che però al momento non possiamo togliere perché ci vogliono 6 mesi di cura per capire se tutto è andato a posto oppure se bisogna continuare la terapia speriamo che quando ad aprile abbiamo la visita neurologica di controllo ci dicano che è tutto sotto controllo così vediamo se sono proprio quelle pastiglie le bombazze che gli danno questo senso di smarrimento che poi nel pomeriggio cambia però vi dirò anche che secondo me è una questione anche un po' psicologica non perché lei sia matta no assolutamente perché chi soffre di cuore dopo che ha avuto dei problemi al cuore ha un po' è sensibilizzato dal punto di vista emotivo io l'ho visto in tanti miei parenti purtroppo i problemi al cuore è una malattia che abbiamo in famiglia oltre al mal di testa oltre al neurismi oltre alle moragie cerebrali siamo fortunatissimi ma va bene e adesso per esempio che stasera scenderà il mio primitivo figlio contadino con la sua fidanzata verranno a cena da noi poi ritornano in quel della Valtellina Valtellina o Brescianno Valtellina Valseria Valseriana Valtellina sono lì a mezzo sopra idolo e quindi è tutta pimpante contenta perché scende il suo pietro vuol vederlo gli ha preparato penso sette chili di ragù e quant'altro e stava benissimo quindi secondo me anche il fatto che ha delle motivazioni gli fa passare un po' anche il pensiero di essere effettivamente magari ammalata ma va bene chiusa parentesi ritorniamo alla nostra acqua micellare vi dicevo acqua micellare che va bene per viso occhi e labbra mi sono trovata benissimo un'acqua micellare all'acido ialuronico e betaine adatta anche per le pelli miste e grasse un'acqua micellare che sgrassa benissimo la pelle attenzione non è che vi fa cadere i pezzi di pelle una volta che l'avete utilizzata no ma se avete la pelle sensibile nine non usatela perché secondo me è un'acqua micellare potente io ho la pelle mista grassa alcune volte più grassa che mista e su di me fa un lavoro bellissimo proprio pulisce toglie tutto il trucco sia degli occhi che il trucco il make up della giornata ma è un'acqua micellare presente voi la sentite è frizzantina sentite che vi pulisce molto bene la pelle e molto a fondo quindi se avete una pelle sensibile io non ve la consiglio se avete una pelle come la mia che sopporta tutto allora sì io ho sia della cuperosa al di sotto del trucco qualche venuzzina che viene fuori comunque c'è e si vede però ho una pelle che reagisce bene quindi non dà nessun tipo di problema quest'acqua micellare per me è una bomba una bomba veramente mi è piaciuta tantissimo 500 ml di prodotto per udite udite 2 euro e 40 allora su notino in questo momento non è disponibile ma è capitato anche a me quando andavo a cercare delle acque micellare e l'avevo messa nei preferiti alcune volte c'è alcune volte no dipende probabilmente dall'approvvigionamento di notino 2 euro e 40 adesso su notino attenzione ve lo ripeterò poi forse anche nelle nelle prossimi prossimi prodotti c'è lo sconto per la festa della donna quindi la pagate veramente una sciocchezza quindi questa è consigliata ripeto per chi ha una pelle senza problemi ha una pelle che non è reattiva non è sensibile per una pelle grassa senza nessuna tipologia di problema ed è un'acqua micellare buonissima veramente molto 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 buona secondo prodotto allora altro struccante altra bomba secondo me ad un prezzo che poi vi metterete a ridere perché adesso non me lo ah non l'ho segnato oddio mio vabbè comunque bielenda bielenda cotton struccante bifasico per occhi sensibili sapete che ecco la mia parte più critica del viso sono gli occhi io ho le palpebre sensibili alcune volte col freddo o con lo stress o con quel cavolo che non so che cosa sia mi si desquamano si irritano ci sono dei piccoli taglietti quindi sto sempre particolarmente attenta al mio contorno occhi e devo dire che questo struccante è veramente favoloso favoloso è delicatissimo non appanna l'occhio che è una cosa che mi piace tantissimo perché tanti bifasici purtroppo anche se poco mi appannano l'occhio per un'oretta o due orette o mezz'oretta questo non lo appanna è un bifasico meraviglioso ma veramente meraviglioso è scritto tutto in polacco perché è un'azienda polacca un'azienda abbastanza rinomata che ha una linea tutta la linea della cosmetica forse ci sono anche i profumi non ricordo a basso costo ma low cost ma molto molto low cost questo io non lo ah si si l'ho segnato l'ho segnato l'ho segnato costa veramente pochissimo poi ve lo dico all'interno c'è cheratina e acido ialuronico e secondo me questo è davvero siccome ho la palpebra sensibile uno struccante bifasico adatto a tutti strucca veramente bene non appanna l'occhio e udite udite costa un euro e novanta se voi andate adesso c'è lo sconto per le donne costa niente praticamente ve lo regalo vabbè comunque prodotto ottimo terzo prodotto e faccio una premessa guardatelo io ne ho sentito parlare bene ma ne ho sentito parlare anche molto male allora burro struccante di Delidea Delidea è una linea che viene venduta al Tigotà almeno io l'ho vista sempre e solo lì è una linea che mi piace tantissimo tutti i prodotti che io ho utilizzato per la maggior parte mi sono piaciuti come mi è piaciuto questo burro struccante ma per chi come voi ama i burri struccanti coreani leggeri schiumosi che lasciano la pelle non io dico unta ma non è unta e poi vi spiego il perché questo burro struccante mi piace tanto perché mi piace tanto è un burro struccante molto corposo se siete abituati ai burri coreani questo non vi piace allora sembra cioè faccio veramente allora ve lo faccio vedere così è molto molto denso ricco di burri ricco di oli vegetali e ha la peculiarità secondo me di sgrassare facendo pochissima schiuma ne basta uno zicke ragazzi cioè se ne mettete un po' di più veramente fate fatica a toglierlo ma se mettete la quantità giusta e questo lo dovete vedere voi in base alla vostra untuosità della pelle al trucco che avete strucca tutto strucca occhi strucca viso strucca labbra come ripeto le labbra mi si struccano da sole e fa pochissima schiuma fa pochissima schiuma perché proprio questi oli vegetali al suo interno lo rendono una crema molto morbida ma molto presente voi quando lo mettete sulla faccia vi sembra di mettere che cosa potrei fare ecco la vase vi ricordate la vaselina che tanti ma tanti anni fa io non so più neanche se esiste probabilmente esista proprio il burro di vaselina la crema di vaselina comunque la vendevano nei barattoli se voi prendete la vaselina come densità è uguale a questo quindi ne basta veramente uno zicca e lo sentite quando lo mettete sul viso lo sentite poi inumidite le mani e vi massaggiate e c'è una leggera schiuma si trasforma neanche in schiuma si trasforma in una crema in una crema struccante e lavante ma la cosa bella è che quando voi vi sciacquate con il panno o comunque con l'acqua se non volete farvi la doccia sul lavello la pelle rimane morbidissima come se voi aveste già applicato una crema a me piace tantissimo quindi non fatevi frenare dalla corposità di questo burro e non paragonatelo ad un burro coreano non ha niente a cui vedere con un burro coreano però è un burro che mi piace tantissimo durerà un'eternità perché sono forse tre mesi che ce l'ho in uso e guardate voi quanto ce n'è dentro la cosa che forse forse non mi piace è il profumo ha un profumo di quasi di dattero di ha un profumo di di legni di natura di quando andate in mezzo ad un bosco non ha un profumo piacevole che ne so di fiori di tiaree di mughetto no non ha un profumo cosmetico piacevole però secondo me è davvero molto molto buono soprattutto per la caratteristica che se a voi magari alla sera non piace mettervi la crema non volete la pelle carica di prodotti questo lascia la pelle morbidissima compatta come se voi aveste già applicato una crema a me piace davvero tanto e costa 12 euro e 99 anche qui ci sono degli sconti particolari se trovate in giro o anche da Kigota per la festa della donna quindi comunque sono prodotti che si hanno un costo alto poi bisogna vedere dai nostri target dai nostri budget però dura secondo me tantissimo il problema è che essendo non vedo se è biologico o ci sono comunque all'interno dei burri e degli oli essenziali che sono biologici qui dice che il pao è 12 mesi speriamo che duri 12 mesi 150 grammi 150 ml sì 150 ml di prodotto a 12 euro e 99 a me è piaciuto tanto poi sapete che io sono sempre da sempre alla ricerca del primer perfetto e ogni volta che ne trovo uno buono poi dopo ne trovo un altro che mi piace ancora di più MUA Makeup Academy Pro Base Oil Free Primer liquido indicato per pelli grasse una bellezza di primer una bellezza di primer allora senza olio quindi già questo mi piace ha una consistenza molto 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 cremosa ok allora io vi dico come faccio e come me lo applico sto diventando scura perché di qua vedete qua sono illuminata ma vengo qua perché sennò non mi vedete più allora sapete che io ho una skin care itinerante nel senso che soprattutto quando vado in ufficio alla mattina quindi ho i minuti contati mi passo la mia acqua micellare poi mi sciacquo poi mi spruzzo la mia acqua viso di cui non potrei mai far senza tonico essence altra cosa di cui io non posso assolutamente rimanere senza per me è fondamentale la essence anzi anche se anche se in tanti so che non la utilizzate ma questo è solo il mio modo di fare skin care poi crema protezione solare primer allora fino alla protezione solare non sono ancora vestita poi metto il primer e mi vesto in modo che il primer si asciughi perché su di me se metto il primer e poi vado subito con il fondotinta mi vengono tutti i bagolini ok ci siamo capiti sapete cosa sono i bagolini no non sono quella roba là i bagolini del trucco e lo faccio asciugare per bene e io ho visto la differenza mi piace mi piace mi piace tantissimo si asciuga e aggrappa cioè fa quasi resistenza quando voi mettete il fondotinta ed è la cosa che mi piace di più e devo dire che da quando uso questo primer il trucco mi dura molto molto di più ma poi vi farò vedere un altro prodotto che mi aiuta che secondo me è uno spettacolo comunque MUA Makeup Academy Pro Base Oil Free Primer comprato su notino al prezzo intero di 5,50€ ma anche qui troverete la promozione donna se volete acquistarlo molto molto buono senza siliconi una formula molto leggera a base di acqua mantiene la pelle opaca si aggrappa bene il fondotinta quando voi usate questo primer mi piace tantissimo veramente buonissimo passiamo ora ai contorni occhi che sto utilizzando e devo dire che in questi due mesi con questi due contorni occhi mi sembra che la parte come si dice perioculare sopra sopra l'occhio non saprei comunque la parte delle palpebre che di solito è un po' più cadente su di me perché ho comunque una certa età sono una donna vintage mi sembra che con l'uso di questi due prodotti si sia rialzata magari è una stupidata però io ve la dico così ve la butto lì per chiacchierata ma a me dà questa impressione allora il contorno occhi che mi sta piacendo tantissimo è questo di Cliniance scusate non mi ricordavo più che ho preso al Tigotà quando c'erano quando avevo forse dei buoni quest'estate non ricordo poi è rimasto lì perché avevo già degli altri prodotti in uso adesso ho tirato fuori questo contorno occhi contorno occhi collagene al collagene con estratto di melograno e un siero intensivo che viene consigliato sia al mattino che alla sera io questo lo utilizzo al mattino sapete perché mi piace? perché ha un colorino rosellino molto carino vedete che con la fortuna che ha la Eli che non ha le occhiaie ha tutto ma non le occhiaie quando io lo stendo rimane e non so se lo vedete perché qui c'è questo colorino cioè c'è il sole che entra rimane come se mi facesse da correttore ripeto io ho la fortuna di non avere di non aver mai avuto le occhiaie spero che non mi arrivino più avanti e questo contorno occhi mi dà l'impressione che mi aiuti un attimino a sistemare il colore che c'è sotto l'occhiaia che è magari più giallognolo o comunque diverso dall'altra parte del viso e poi quando io ci metto il fondotinta va bellissimo un contorno occhi molto leggero si assorbe praticamente subito e io me lo metto sia sotto sia sotto si giusto che sopra quando faccio contorno occhi io intendo proprio il panda cioè il contorno occhio tutto mi piace mi piace particolarmente questo sempre dati gotà costa 10 euro e 90 e vi devo dire che ultimamente non so se perché il periodo se perché sono leggermente più rilassata di quando ero a dicembre non mi si stanno più neanche tagliuzzando e screpolando le mie palpebre quindi io questo lo consiglio ha un prezzo diciamo relativamente basso 10 euro e 99 ma anche qui se avete dei buoni degli sconti poi un contorno occhi da 15 ml dura una vita se poi lo utilizzate come me solo alla mattina vi dura ancora di più mentre per la sera ho questa meraviglia allora questo è l'unico prodotto ad alto prezzo diciamolo così non mi piace mai dire parlare inglese perché poi io sono una barlafusa nel dire le cose quindi height cost height cost che costa un pochino di più questo però io l'avevo acquistato l'anno scorso o addirittura due anni fa ma non l'avevo ovviamente aperto e l'avevo acquistato su non mi ricordo il sito comunque poi vi metterò il link va bene costava 38 euro ma io avevo uno sconto del compleanno se non mi ricordo male del 30% e quindi l'ho pagato un bel pezzo meno certo ha un costo che non è questo ovviamente però questo è un signor contorno occhi per tutti i tipi di pelle e pelle matura azione intensiva e rassodante e questo è il contorno occhi scusate non ve l'ho mica detto qua sta arrivando la luce che mi farà salire in paradiso Anne-Marie Borland Natural Beauty questo è il suo colorino che mi piace tanto e la consistenza è molto bella la sentite ma non vi unge e secondo me è veramente rimpolpante rassodante è ricco di estratti vegetali e di acido ialuronico è un contorno occhi super 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 mi piace davvero tantissimo allora leviga toglie i segni di stanchezza di stress praticamente è un miracolo della natura qui lo consiglia anche come base per il trucco quindi da utilizzare alla mattina ecco io faccio questa diversificazione da sempre contorno occhi per la mattina e contorno occhi per la sera e questi sono i miei due prodotti che sto utilizzando e di cui sono molto 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 contenta passiamo ora a due sieri mamma mia sta arrivando tutta la luce allora sto utilizzando ho principalmente due sieri alla mattina e due sieri alla sera un siero all'acido ialuronico che avevo comprato da Balea e che mi sta piacendo tanto ve l'avevo fatto vedere forse non l'acquisto ma quello di cui vi vorrei parlare è questo il siero numero 5 di Giada allora anche questa casa anche questo brand mi piace molto è un siero aspettate che ci sono tutte le certificazioni allora è certificato IAB è vegano ed è nickel test quindi per chi apprezza questa tipologia di prodotti questo è un ottimo prodotto è un siero molto 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 leggero adatto a pelli mature anche questo io sono matura quindi la mia pelle è matura allora è leggerissimo ma veramente leggero 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 si assorbe subito non è unto ha un buonissimo profumo molto molto delicato sa quasi di di arancia e vi leviga la pelle cioè quando voi l'avete sul viso sembra che la faccia sia più più levigata mi piace davvero tantissimo e cosa ci dice Giada di questo siero ci dice che è ricco di principi attivi ed estratti selezionati per contrastare e prevenire le rughe e io sono fortunata di rughe non ne ho tantissime o comunque si mascherano molto bene una volta che sono truccata la sua la sua formula contiene un innovativo complesso liftante a base di proteine dermoaffini da olio di argan che sostengono e distendono la pelle ecco io questa cioè vi ho detto che la pelle vi sembrava levigata e quindi il fatto che lo sentite quando ce l'avete su vi sembra tutto più compatto tutto più al suo posto non so come dire ve lo dico così sapete che io sono una youtuber da trattoria come dico sempre e quindi che dirvi questo è un siero che mi sta piacendo molto e infatti vedete che l'ho quasi finito però prima di finirlo ho voluto raccontarvelo questo costa dai 15 ai 20 euro perché vi dico dai 15 ai 20 euro perché dipende da dove lo acquistate e dagli sconti che ci sono in giro comunque il prezzo più piccolo l'ho visto sui 14,99 il prezzo più alto sui 19,99 però anche qui vi ripeto cioè vi dura vi dura tanto insomma buono questo è allora il siero numero 5 di Giada altro siero questo invece per la sera questo invece per la sera perché è una bombazza di siero molto molto buono sempre di dell'idea che avevo comprato anche questo quando avevo i miei sconti potentissimi siero viso anti età azione urto allora dici che non l'ho segnato vabbè ve lo racconto non ho segnato le caratteristiche non mi è rimasto stampato comunque è un siero all'olio di argan e dattero del deserto il profumo del dattero quando voi mettete questo siero è bellissimo attenzione a non abusarne ne basta un pump perché se mettete più di un pump anche solo un pump e un goccio vi fa scia se ne mettete un pump lo spalmate tranquillamente lo fate assorbire e viene meraviglioso adesso vengo un po' più avanti aspettate che sposto il tavolo e vado dove la luce non mi abbaglia ecco tavolo spostato adesso spero di fare la svelta mi mancano solo due prodotti allora vi dicevo che è un siero molto ricco e voi lo sentite lo sentite perché è corposo è cremoso è quasi unto ma poi si assorbe e riuscite tranquillamente a mettere la crema certo l'effetto che avete sulla faccia è chiaramente non un effetto di siero all'acqua siero leggero per la mattina questo è un siero che va messo alla sera però è veramente spettacolare guardate voi la densità bello poi sono tutti di questo colore avete visto ho tutti dei sieri che sto utilizzando sul rosino giallino color carne allora è un siero che voi sentite però guardate si assorbe non fa scia se ne mettete di più di un pump fa scia assolutamente l'ho provato io e quindi mi sono detta oh mamma mia guarda qua sembrano la faccia di babba natale che è tutta bianca e poi sapete che cosa mi piace tantissimo il profumo del dattero se a voi piacciono i datteri a me i datteri piacciono tantissimo ma non i datterini quelli che si vendono tutti i sfilzettini che sono magrolini così a me piace il dattero li compro dalla mia fruttivendola la tizzi li compro una scatola da un chilo soprattutto sotto natale poi li compro sfusi perché comunque fanno molto bene per l'alimentazione e questo ha il profumo godurioso del dattero di natale è buonissimo è buonissimo è corposo è veramente un siero nutriente ecco lo definirei proprio così un siero nutriente che va messo ovviamente se avete una pelle ag diciamola così che ha bisogno di essere nutrita e attenzione io come vi dico sempre ho la pelle mista grassa ma questo mi regala una bellissima pelle alla mattina cioè mi piace davvero tantissimo non è una pelle unta è una pelle che ha ricevuto un nutrimento è una pelle nutrita ed è veramente buonissimo questo ve lo consiglio non ricordo non ricordo cosa costi ragazzi perché non me lo sono segnato tra i miei appunti ma come prezzo era sui 12 euro 10 euro non lo so non l'ho segnato non l'ho segnato mi spiace non ho fatto pensavo di aver copiato la descrizione ma non l'ho fatto pacienza comunque poi vi metto il link e quindi potete andare a vedere è davvero un ottimo siero per la sera pelle agé pelle che ha bisogno di essere nutrita che ha bisogno di rimpolpare le rughe che ha bisogno di essere coccolata attenzione veramente veramente ottimo altro prodotto che mi sta piacendo un botto e dico un botto vediamo eh però non so mica sicura che non l'ho segnato magari non lo vedo neanche io tel che è qui ce l'ho qua ragazzi 13 euro e 69 mi sembrava di essere stata fin troppo meticolosa eccolo qua dice perché tipologia di pelle tipo di pelle esigente la mia è una pelle esigente ecco l'avevo segnato buono 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 poi crema per la notte l'oreal di questo bel color pink baby bellissima golden age trattamento ricco fortificante per la notte come vedete per la sera sto utilizzando dei prodotti tutti abbastanza corposi quindi siero occhi siero crema occhi siero per il viso corposo e crema questa è una bella crema una bomba age perfect golden trattamento ricco fortificante notte è stato sviluppato dai laboratori l'oreal pari come trattamento notte protettivo e formulato con pro calcium per favorire il processo di autoriparazione notturna della pelle al risveglio la pelle vi appare visibilmente più fresca e riposata intensamente idratata vero anche perché in combo con questo una meraviglia la pelle risulta piacevolmente confortevole e non tira ecco è vero mi è capitato poche volte di sentire la pelle scusate ma qua non riesco a capire i capelli la pelle che al risveglio tirasse pochissime volte quando ancora non avevo capito cosa la mia pelle aveva bisogno aveva bisogno di nutrimento ha bisogno di olio ha bisogno di un'intensa idratazione e di oli essenziali e anche di burri che me la rendano elastica e effettivamente con diciamo le creme che sto utilizzando adesso è così è una crema bellissima è una crema bellissima e anche questa la sentite la sentite quando ce l'avete su la dovete spalmare molto bene è molto corposa vi lascia quasi un film di protezione sulla pelle questa si sente si sente è una pelle nutrita e ma il profumo è proprio buono il profumo dei cosmetici di una volta della nonna mi piace tanto un profumo quasi di rosa buono 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 questa è una bella crema e qui vedete voi che sono già andata non so se si vede abbastanza a fondo anche qua non ne serve tantissima però la dovete stendere molto bene guardate vedete le mani come rimangono un po' untine ma non nel termine brutto cioè vuol dire che ci sono dentro tanti elementi che possono idratare la pelle del nostro viso me la metto perché poi io alla fine non me le lavo le mani e poi mi spalmo bene la crema sulle mani e mi addormento in poltrona perché la palpebra mi cade che dirvi io ve la consiglio i prodotti L'Oreal come i prodotti della Garnier come i prodotti di Cleanance sono tutti dei prodotti buoni forse hanno anche qualcosa in comune come casa produttrice perché alla fine della fiera si è sempre le i loro costi sono adeguati questa anche qui come sconto ho cercato un po' in rete va dai 10.99 ai 15.99 però sono 50 ml di prodotto quindi insomma qui vi dura vi dura parecchio ottima crema per la notte per la notte ovviamente per una pelle vintage una pelle che ha bisogno di essere idratata di essere curata di essere coccolata di essere non so come dire ammorbidita cioè veramente una crema che mi sta piacendo tantissimo e per ultimo ma non per importanza come si suol dire un make up fixing spray che è la fine del mondo dermacol spray fissante allora prolunga la durata del trucco e dà una piacevole sensazione di freschezza quando lo si spruzza sul viso è vero vi può servire anche durante la giornata se magari dovete riuscire quindi vi tamponate con una salviettina con una cipria per togliere il lucido ma volete che comunque il trucco vi duri ancora un pochino vi ripeto che io mi trucco alle 7 della mattina e generalmente perché sono spesso fuori durante il pomeriggio o con la mamma o al catechismo o a far la spesa insomma come tutti voi o come tutti voi quindi mi strucco mi strucco alla sera e questo mi fa durare di almeno il 50% in più il trucco io ho una pelle grassa mista e sull'occhio non mi rimane nulla questa mattina io me lo sono spruzzato adesso non vedo niente però questo è il mio trucco non ho toccato e non è caduto nulla l'unica cosa che ho rinfrescato è stato il rossetto all'interno troviamo pantenolo e aloe vera all'antoina e vitamina B3 hanno un effetto lenitivo compattano la pelle regalano freschezza e la idratano per il costo di 5 euro e 20 per 100 ml ma vi dura un botto sempre su notino sempre se lo volete acquistare adesso ci sono gli sconti per la donna ebbene non so se sono stata veloci oppure no ma fa niente siamo stati in compagnia magari qualcuno ha pulito il bagno qualcuno ha sistemato la cucina qualcuno invece si è seduto con una bella tazza di tisana io vi ringrazio vado a finire di sistemare la mia cucina e quindi sentirò qualche vostro video qualche video di amica youtubers che mi tiene compagnia vi abbraccio vi saluto vi ringrazio di essere arrivati se vi è piaciuto un pollice in su se volete iscrivermi perché ci sono tantissime persone almeno il 50% che mi segue ma non è iscritto se vi fa piacere iscrivetevi è gratuito non vi costa niente e fate crescere il mio canale e la nostra community di amici e amiche vi abbraccio vi do appuntamento ad un prossimo video ciao ciao